Una recessione non è inevitabile. Lo afferma il presidente americano Joe Biden alla Societad Press, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. La recessione non è inevitabile, e siamo nella posizione più forte di ogni altro paese al mondo per superare l'inflazione, afferma Biden con la Societad Press, sottolineando che il suo ottimismo è legato a un tasso di disoccupazione al 3,6% e alla forza dell'America nel mondo.